Salve ragazzi Salentino, armiamoci di ottimismo calcistico, sta per approdare la squadra del cuore, per una nuova avventura di venutato straordinario entusiasmo. Proiettandoci su nell'alta classifica della Coppa Smeralda, vi raccomando tutti insieme verso l'unico obiettivo delle pasticciotte le chiese, per compiere il pasto di qualità. In bocca al lupo, da piegio quale quarta poeta Neif Salentino, godialità. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Salve ragazzi Salentino, armiamoci di ottimismo calcistico, sta per approdare la squadra del cuore, per una nuova avventura di venutato straordinario entusiasmo. Proiettandoci su nell'alta classifica della Coppa Smeralda, vi raccomando tutti insieme verso l'unico obiettivo delle pasticciotte le chiese, per compiere il pasto di qualità. In bocca al lupo, da piegio quale quarta poeta Neif Salentino, godialità. Grazie a tutti!